Oggi l'associazione Newman torna a parlare di letteratura e lo fa presentando l'ultimo romanzo di Luca Doninelli, Tu credi che io dorma, pubblicato dalla nave di Teseo. È un romanzo molto bello, ne parleremo con Luca Doninelli, con l'autore. Luca Doninelli è uno degli scrittori italiani oggi più importanti, cominciato intorno a una lettera di Santa Caterina del 1981, che non era propriamente un testo letterario, ma era un testo di confronto sulla famosa lettera di Santa Caterina su Niccolò di Conto. E poi ha scritto tante opere narrative, alcune molto legate alla realtà, penso a uno come Talk Show o La Nuova Era. E poi nel 2015, se non erro, ha pubblicato un lunghissimo romanzo, Le cose semplici, con una misura molto grossa, un testo molto impegnativo. Oggi ritorna con un romanzo più breve e che ha una struttura completamente diversa. Questo romanzo è appunto Tu credi che io dorma. È un romanzo, secondo me, non di prima lettura. A una prima lettura tende a sfuggire al lettore, anche attento, quale possa essere il filo conduttore. Una seconda lettura, prima di tutto ci porta a, diciamo, godere della bellezza della scrittura di Doninelli e poi apre a possibili interpretazioni. La prima cosa che sottolineo è che è un romanzo, è che è un romanzo, ma apparentemente ha la forma di cinque racconti. Infatti cinque capitoli hanno tutti e cinque un titolo, come se fossero appunto racconti. In più c'è un testo in epigrafe di un padre russo vissuto nell'epoca di Stalin, il padre Afanasi, un testo molto bello che in qualche modo ricorda la cipolla della grushenca di Dostoevsky, che viene poi appunto ripreso nell'ultimo capitolo, dove c'è una, diciamo, rappresentazione che parte, secondo me, da questa frase. Il libro si apre con il primo capitolo Vita straordinaria di Jeremy Spencer e ha un prologo la cui prima frase non si può falsificare tutto. Ecco, queste epigrafe e questa prima frase, in che rapporto stanno con tutto il tuo romanzo? Buongiorno, buongiorno, buonasera a tutti e grazie tantissime agli amici dell'Associazione Newman per questo invito. Diciamo che uno volendo, dopo aver letto l'epigrafe e dopo aver letto la prima frase, potrebbe anche essere soddisfatto del libro, cioè alla fine quando, perché il nucleo è quello, cioè è un uomo condannato a morte, questo padre Afanasi che io ho incontrato visitando una mostra sulla chiesa ortodossa in epoca staliniana. Questo padre Afanasi era condannato a morte da Stalin e che poi fu effettivamente ucciso. Questa frase che sostanzialmente dice questo, che al mondo non esiste un uomo inutile. Dice, se anche un uomo al limite, al limite, cosa che io non penso, non avesse fatto niente di buono nella vita, ma a qualcun altro gli avesse anche portato solo un bicchier d'acqua, dice, vuol dire che quest'uomo è vissuto finché qualcun altro potesse compiere quest'opera buona. E' interessante che considera opera buona portare un bicchier d'acqua a qualcuno e teniamo conto che chi sta dicendo questo sta morendo per la sua fede. Ecco, già questo ci dà una, ci apre, ci spalanca una finestra sull'idea di uomo che ci si presenta in questo, un'idea di uomo che oggi è difficile di tracciare, che è, come dire, l'uomo è sempre più un mezzo per qualcos'altro, non è un fine, il fine della cultura, della civiltà, eccetera, è sempre di più qualcuno da usare per qualcosa, insomma. Quindi questa idea invece assoluta dell'uomo come qualcosa di unico, di talmente irriducibile che perfino l'uomo più spaventoso del mondo mantiene nel quadro universale un suo senso che comunque non siamo noi a decidere. Lui dice, però, l'evidenza ci dice questo. Da qui, appunto, la prima frase del racconto che è messa in bocca a qualcuno che non viene riconosciuto. Cioè, mentre un bambino aspetta suo papà che porti delle valigie sul treno, che da Venezia dovrà condurre a Vienna, dove i due vanno a raggiungere la mamma che si trova lì in vacanza, sente qualcuno che dice questa frase. Che dice questa frase? Non si può falsificare tutto. Qui mi veniva alla mente un libro molto bello che lessi ancora da ragazzo, avevo 30 anni, La falsificazione del bene di Alain Besançon, dove, tra l'altro, c'era un saggio su Salaviov. Anni dopo, poi, sempre ancora sono letture di tanti anni fa, però che mi sono rimaste, l'origine del totalitarismo di Hannah Arendt, dove Hannah Arendt giustamente dice che per il potere, per il potere che vuole esprimersi completamente come in un regime totalitario, e dominando tutto, l'ideale non è tanto quello di dominare gli uomini, ma che gli uomini non esistano, la loro inesistenza. Io credo che la letteratura è una delle grandi cose che la letteratura ci ha regalato e ci regala qualche volta. è questo sentimento del fatto che nell'uomo c'è questa radice irriducibile. Questo a prescindere poi che l'autore sia credente o non credente, questo conta meno, conta di più un riconoscimento obiettivo. Per cui tutto il libro, sì, possono essere anche letti come racconti distinti, anche se sfido un buon lettore a cambiare di posto i racconti, cioè la successione è quella. Quindi in questo senso una persona che capisce molto di letteratura, come Valentina Fortichiari, dice che sono come i cinque movimenti di una sinfonia, che sono quelli, cioè tu non puoi fare il terzo movimento, poi il secondo, poi il quarto, poi il primo, ecco, quindi è una successione. La prima caratteristica che mi sembra abbastanza evidente è che sono tutte vite che in qualche modo fanno i conti con la loro necessità di non essere inutili. Quindi questo è un pochino poi il punto su cui ho sviluppato una struttura narrativa che in realtà, diciamo, poi leggere questi testi a me sembra di non scrivere complicato, no? Però è abbastanza complessa la struttura, tant'è vero che appunto è pieno anche di citazioni mascherate, queste cose, che servono anche un po' per intimorire anche i critici. No, adesso scherzo. Infatti i critici generalmente parlano molto bene dei miei libri, anche se talvolta leggendo i loro elogi non riconosco nulla di ciò che io ho fatto, ma questo, insomma, è anche bello un pochino giocare con queste cose. Però di fatto, insomma, sono cinque storie che poi sono una sola, che sviluppa questa idea dell'irriducibilità dell'uomo. Devo aggiungere anche questa cosa, che quando ho lessi la frase del bicchier d'acqua, citata da padre Afanasi, mi sono detto ma è possibile scrivere un racconto credibile in cui un carnefice offre, ma non per scherno, offre un bicchier d'acqua alla sua vittima? Cioè, come fai a raccontare questa cosa? E questo è stato anche uno dei fili in cui poi, seguendo anche l'imprevedibilità, perché non bisogna avere le idee troppo fisse in testa, prima io dirò questo, dirò quell'altro, dirò quell'altro, eccetera, occorre anche a un certo punto imparare da ciò che si fa e correggersi quando le nostre idee di come strutturare un'opera, insomma, sia un quadro, insomma, sia un testo letterario, sia qualunque cosa, diventano troppo vincolanti. Ecco, bisogna a un certo punto avere le idee chiare, ma nello stesso tempo anche aspettarsi e richiedere ciò che facciamo, quindi lavorare in un testo nella direzione di un'idea che ci guinda, ma nello stesso tempo attendendo che proprio questo lavoro ci riveli meglio questa idea e questo è il modo secondo me con cui io scrivo che è, come dire, un dialogo con degli eventi che imprevedibilmente vengono fuori nella misura della serietà del lavoro. Quando io generalmente scrivo troppo bene e mi rendo conto che tutto sta avvenendo come penso, di solito è il momento in cui capisco che le cose non stanno andando bene. Ecco. Questo è molto interessante, fa il paio con quello che ci siamo detti l'altro giorno parlandoci al telefono quando tu dicevi che siamo troppo cartesiani e quindi cerchiamo di far subito quadrare tutto. Mentre ho letto la seconda volta questo romanzo ho preso qualche appunto inevitabilmente io non sono un critico ma sono un attento lettore e alla fine mi veniva da dire tu non sarai d'accordo un romanzo barocco tra sogno enigmatico e quadri di vita borghese ma tutto sempre sotto il segno di una sorta di incantamento dovuto forse scrivevano i miei appunti a quel principio di indeterminazione che tu citi nel primo capitolo e che forse ha a che vedere questo principio di indeterminazione con la letteratura almeno forse con questo romanzo con questo episodio della letteratura non so se tu concordi o se ho preso una cantonata intanto intanto grazie per un'osservazione molto preziosa e molto acuta mi sorprende molto ma mi sorprende positivamente questo tuo accenno al barocco tanto per cominciare che è la prima parola che usi perché se è vero che non credo ci sia nulla di barocco nella mia prosa come tale no è però è vero che l'estetica barocca è un'estetica che io amo molto e che quindi ha lasciato dei segni un po' il mio maestro Giovanni Testori aveva sicuramente portava sicuramente le stigmate di un'estetica barocca che ha trasmesso a un a un invece oriundo come me un po' lombardo un po' fiorentino quindi cresciuto più diciamo sulla scuola del disegno pulito la scuola brunelleschiana ecco così però poteva apprendere io diciamo sicuramente l'idea l'idea barocca l'idea estetica barocca è anche un'idea diciamo come dire che pone 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 l'accento su ciò che non può essere ridotto a discorso io parlando insieme cioè è molto facile fare un lungo discorso sulla vocazione di Matteo di Caravaggio o sul cipresso di Van Gogh oppure sul quel meraviglioso quadro sempre di Van Gogh adesso lo dico i primi che mi vengono in mente della notte sul Rodan della notte stellata sul Rodan è facile diciamo applicare a queste immagini un discorso forte se però noi vediamo un quadro che a mio modestissimo parere è superiore a tutti quelli che ho detto che è il ritratto della infanta di Velasquez uno di quelli che troviamo al Poste Stories di Vienna dove si vede semplicemente una bambina con un abito che tiene la manina una manina appoggiata una mensola su cui c'è un vaso di fiori e lì ci rendiamo conto che non è che ci sono tanti discorsi da fare c'è come dire un incantamento e noi rimaniamo stupefatti e ci accorgiamo che più lo guardiamo e più vediamo cose più lo guardiamo e più ci sorprende ma se dovessimo dire sì ma cosa è quello non lo sappiamo non lo comprendiamo quindi giusta giusta l'idea della barocca dell'idea del barocco come di una non riconducibilità dell'arte della bellezza a un discorso organizzato no? per cui dobbiamo accettare accettare lo stupore come 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 un un fattore vitale no? poi tu usavi un'altra parola alla fine me la ripeti Mario e ti ho ho usato la parola proprio come una sorta di incantamento dovuto forse a quel principio di indeterminazione principio di indeterminazione adesso è naturalmente capitolo è naturalmente diciamo stiamo ricordandoci che il principio di indeterminazione fu enunciato da uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi che però era anche un fervente nazista no? naturalmente diciamo non va molto di moda però però secondo me Heisenberg aveva aveva colto una 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 legge importante fino a quel momento messa in ombra in qualche modo del rapporto tra ciò che io guardo e ciò che io vedo no? cioè il fatto che la mia la mia esperienza diventa l'avevano detto in tanti eh perché voglio dire tutta l'asse Sant'Agostino fino a Bergson ci ricorda insomma che la memoria stessa è un atto creativo che diciamo noi non siamo come dice Ivan Illich noi non siamo dei registratori e noi non siamo delle macchine fotografiche no? quindi la memoria stessa è qualcosa che agisce ora e che ora produce il mio rapporto col passato e quant'altro qui eh a maggior ragione soprattutto nel primo testo che è un testo di letteratura fantastica perché mi spiace spoilerare ma insomma è la storia di un bambino che sul vagone di un treno incontra tutta la propria vita dal dal dall'epoca prenatale no? alla alla al al post mortem no? con in mezzo tutti episodi fondamentali della vita per cui no queste due sono sia sul barocco che sul principio di indeterminazione quest'ultimo soprattutto poi è agito anche nel mio modo di lavorare per sviluppare il testo no? eh lo dico subito perché il secondo racconto quello che parla di un editore new yorkese ebreo new yorkese nel secondo racconto inizialmente diciamo questo romanzo doveva essere fatto a scatole cinesi dove quindi il primo racconto era contenuto nel secondo il primo il secondo nel terzo primo secondo il terzo nel quarto e così via no? poi mi sono accorto subito che imponevo stavo imponendo una meccanicità che alla fine mi sarebbe risultata dannosa per il fatto che poi quando uno scrive vuole anche imparare delle cose quando scrive no? allora ho detto sì il primo racconto effettivamente compare nel secondo però non è proprio quello lì infatti l'editore new yorkese si trova tra le mani un romanzo scritto da una ragazza italiana che grosso modo ripercorre ma non nello stesso modo è un racconto molto più luttuoso molto più amaro e poi è tutto ambientato nell'iterland milanese no? e quindi si ricorda un po' il primo ma non è come il primo a questo punto ho avuto anche la seconda idea è quella di una sorta di agglutinazione dei personaggi per cui i personaggi scorrono ed è una cosa che a un certo punto viene detta dal protagonista dell'ultimo racconto scorrono da una situazione all'altra anche da una situazione ideologica all'altra da una situazione esistenziale umana all'altra e anche da un genere letterario all'altro però ritroviamo sempre una ragazza alta con i capelli rossi una ragazza con gli occhi verdi no? che sono come questo questo continuum che è anche questo insomma in modo che vuole essere vorrebbe essere anche piacevole insomma per poi per chi legge però è sempre quell'idea prima dell'esergo dell'epigrafe di padre Fanasi no? cioè che il il volto umano non lo cancelli mai insomma mi spiace di dare questa idea insomma un po' ideologica però è questa insomma l'idea che mi aveva mosso non si cancella quell'unico che io sono insomma no? e che non è mai uguale a zero senti parlando con degli amici che tra l'altro sono anche degli amici comuni veniva fuori quest'idea no? che in questo romanzo oltre a queste storie che sono molto belle molto interessanti anche quella del terzo racconto di questo professore di università nel quale mi chiedo chissà se tu ti identifichi un minimo un minimo naturalmente ecco veniva fuori però parlando con questi amici che era un testo anche diciamo una parola che fa un po' che fa un po' accademia metà letterario ma detto in soldoni un testo anche sulla letteratura di fatti ci sono alcune pagine in cui tu scrivi molte cose sulla letteratura caos che si aggiunge a caos eccetera ce n'è una in particolare che mi ha colpito no che mi ha colpito che mi ha interessato ecco quando dici a pagina 53 se Dio è quello che desideriamo sopra ogni altra cosa la letteratura non è solo atea ma addirittura contro Dio e l'altra cosa legata alla letteratura secondo me è la questione del tempo del tempo che spesse volte scivola noiosamente e che poi dalle volte si condensa in modo misterioso quasi quasi per grazia in qualche avvenimento particolare non so se su queste due cose sono tutte e due molto molto centrate allora vorrei innanzitutto dire per chi non legge com'è un pochino perché tu citi il terzo racconto allora sono apparentemente cinque racconti il primo è un racconto diciamo alla Durenmat per intenderci il secondo è un racconto new yorkese secondo un po' il modo della letteratura new yorkese quindi diciamo da Paul Oster o altri scrittori insomma che ci raccontano la città il terzo è un racconto ambientato a Parigi qualcosa un po' alla Carrère il quarto è un racconto che sta un po' tra Flannery O'Connor e Cormac McCarthy ed è ambientato invece nella selvaggia nel selvaggio Midwest barra West americano di oggi ma ancora molto duro insomma come ce lo racconta anche Cormac McCarthy e quindi è un racconto diciamo che potrebbe essere tra Grossman e Bulgakov invece ambientato nell'età staliniana questo è per indicare il terzo la scuola francese è la storia di un professore di letteratura anzi proprio un professore di scrittura che tiene un corso sul romanzo tu sei un insegnante di scrittura creativa no non proprio non proprio e ho sempre cercato di non fare quella cosa lì che che insieme con i suoi allievi fa una sorta di romanzo collettivo dove a un certo punto compaiono anche gli extraterrestri tanto per non farci mancare niente quello quello era un omaggio era un mio omaggio personale a Vonnegut a quel libro meraviglioso che è il matatoio numero 5 e e lì sviluppo in quel terzo racconto che è il centro un po' geometrico del libro racconto un pochino cos'è la letteratura per me quella è la storia di un uomo che ha una moglie che non ama una amante che non ama anche se mi è stata molto elogiata la scena erotica di quando c'è la 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 seduzione in una biblioteca in una in una università di periferia della della periferia del regno sui Pirenei no? e ecco però diciamo si trova si trova tra due non amori no? che però lo pressano gli pongono delle domande no? l'unica persona che lui ama veramente è il suo bambino e poi tiene questo corso in cui in realtà le scelte che fa eccetera riflettono questo suo dramma e una ragazza una ragazza del corso la più brillante si accorge di questa cosa no? e lì c'è un il punto che mi che mi è sempre piaciuto di più a quella è almeno a me ecco che scrivo il momento in cui si parla di un racconto di Stig Daggerman che si intitola Uccidere un bambino che è una storia spaventosa no? e questa ragazza che ha avuto un fratellino ucciso realmente da un automobile esattamente nel modo raccontato e che non voleva più uscire di casa perché era disperata a un certo punto riceve via email il testo di questo breve racconto di Daggerman scritto quindi da uno da uno svedese morto suicida a 31 anni no? di un che appartiene a un mondo totalmente diverso da lei e che però racconta la stessa cosa che è successa a lei non salvato dalla letteratura diciamo e lei di colpo leggendo questa storia di qualcuno che ha vissuto anche se lui l'aveva letto solo su un giornale però che aveva partecipato in quel modo a un dolore così uguale al suo lei finalmente esce dalla solitudine e comincia a leggere leggere eccetera e questo poi la porta a Parigi perché lei non è di Parigi quindi l'idea insomma che questo racconto tragico spaventoso che è difficile leggere senza mettersi a piangere salva lei mentre lui lo stesso racconto lui che è un bambino bello che sta benissimo è intelligentissimo è brillante che è tutta la sua vita tutte le volte che legge quel racconto scoppia a piangere e pensa che la vita è fatta solo di atomi che casualmente vorticano formando quelli che noi chiamiamo i mondi ecco interessante come ecco lo stesso lo stesso racconto agisca in due modi in due modi così opposti su due persone che vivono situazioni così opposte quindi rende felice l'infelice e infelice il felice eccetera eccetera quando dico la letteratura è contro Dio io mi rifaccio a Flannery O'Connor cioè io credo fondamentalmente profondamente che la letteratura in fondo in fondo sappia parlare solo di Dio che Dante ha parlato di questo Omero ha parlato di questo Seneca ha parlato di questo Victor Hugo Manzoni Leopardi Dostoievski ma anche Tal Stoi in fondo è di questo che parla la letteratura è una branca della teologia da questo una branca un po' più selvatica più che che invece di fondarsi su evidenze razionali si fonda su su sull'evidenza del bello naturalmente se si riesce ad arrivare a quello no e e quindi io credo che visto che i conti con l'infellicità col fallimento cioè pensiamo a due persone insomma che mettono che si amano e mettono al mondo un bambino e questo bambino è lo dico siccome sto per diventare nonno rivivo un po' questa esperienza no e e questo bambino è il coronamento di un amore inimmaginabile tra questi tra queste due persone poi passano gli anni magari questi due si separano e il bambino che è diventato grande ha un suo destino triste no magari finisce in brutti giri diventando grande eccetera no ecco e la letteratura in fondo tocca sempre questa questione cioè proprio perché la letteratura può parlare solo di Dio no pensiamo a Welbeck no che racconta schifezze quando gli riescono i libri non sempre quest'ultimo una noia mortale per esempio ma Welbeck è sicuramente uno scrittore che anche quando parla delle schifezze più inerrabili in realtà sta parlando di Dio e questa è la ragione per cui Welbeck è uno scrittore importante no perché perché è più evidente quello che magari lo scrittore è un po' più intellettualoide si capisce di meno insomma no però è questo ma proprio perché è questo i conti con la sua assenza bisogna farli per forza no e quindi l'assenza di Dio è uno dei temi o come diceva Flannery O'Connor che era più brutale il male cioè possiamo eliminare il male dalla letteratura no come diceva il compianto Giacomo B. Contri grande psicanalista e grande grande intelligenza diceva vedi nel racconto del peccato originale nel Genesi c'è il serpente no che rappresenta il tentatore e Dio non lo manda mica via è lì è lì è lì a fare il suo mestiere no e cioè Contri diceva è stipendiato per questo no e quindi come dire che la letteratura debba fare i conti con questo con l'assenza di Dio proprio proprio perché è di questo che parla non è di altro che può parlare no infatti un altro grande tema credo la letteratura di tutti i tempi è la crisi se facciamo i conti di tutte domando scusa di tutti gli atti sessuali da Omero ai giorni nostri raccontati io credo che quelli tra un marito e una moglie costituiscano lo 0,1% no quelli legittimi quindi è un po' questa la letteratura parla sostanzialmente delle cose che che a noi piacerebbe andarsene in un modo però vanno in un altro e quindi si fanno i conti con questo concluderei questa conversazione con due domande che condenserei tutte insieme a parte il fatto che il bello della lettura e anche che le interpretazioni sono diverse mi ha colpito che hai detto che l'ultimo romanzo di Wellbeck non ti è piaciuto tantissimo non hai detto che mi annoia a morte molto più bello era molto più bello serotonine invece io ho va bene no e questa idea del barocco mi è venuta pensando a certe interpretazioni che sono state che sono state date di Gaza tu sei uno scrittore io ti ho detto Lombardo tu mi hai specificato che però sei toscano però diciamo come scrittore e comunque sono livelli testori quindi allora la domanda la prima ma le condensano tutte e due insieme è che rapporti ha uno scrittore Lombardo con due punti di riferimento ineludibili Manzoni appunto e Gaza e la seconda domanda è proprio più esistenziale no dato che nessuno deve per forza fare letteratura come sei arrivato tu alla necessità di essere uno scrittore perché credo che o sei scrittori così per vecchio sia scrittori un po' anche per amor proprio oppure sia scrittori per necessità io credo che tu sia di questa seconda seconda specie ecco come sei arrivato a questo queste due domande sono due domande molto importanti allora Gadda credo di averlo letto tutto però Gadda secondo me a parte il fatto che Gadda è figlio di Manzoni cioè se pensiamo anche alla cognizione del dolore vuol dire il protagonista della cognizione del dolore è un discendente di quelli che avevano vessato Renzo e c'è tutta una un racconto da parte degli spagnoli degli ispanici della della vicenda di Renzo Tramaglino quindi che per per citare uno scrittore tedesco Hoffman no che però va bene anche per noi che diciamo Gadda scriva sul retro delle pagine di Manzoni questo è in dubbio molte cose accomunano i due sono padre e figlio esattamente come Gogol e Bulgakov per esempio dove si capisce che c'è una una figliolanza evidente no una discendenza diretta Gadda prende da Manzoni tutto pregi difetti eccetera secondo me lo interpreta anche male come come i figli interpretano male i padri insomma no poi è chiaro che come dire poi ci sono stati molti equivoci su Gadda il tempo in cui quelli del gruppo 63 dicevano i nipotini di Gadda eccetera come se Gadda avesse inaugurato un nuovo modo di fare letteratura dopo aver letto praticamente tutto Gadda io posso dire tranquillamente che Gadda fa letteratura così perché lui è così no cioè sono quegli autori che sono sono loro così no io invidio milioni di cose a Gadda soprattutto gli invidio il senso dell'umorismo cioè Gadda ci sono delle pagine che fa morire da ridere è sempre stato io ci riesco un po' nella letteratura per bambini nella narrativa per l'infanzia ci riesco e quella per gli adulti mica tanto in questo mio romanzo c'è solo una battuta che può far ridere ma questa è meglio che la scopra visto che è una sola che la scopre il lettore il grande rapporto è quello con Manzoni cioè il padre e Manzoni cioè io non mi ritengo nipotino di Gadda ma per niente io però mi ritengo figlio di Manzoni cioè chiunque scriva a Milano qualunque scrittore milanese ha a che fare con questo totem perché come diceva un mio amico matematico francese i Promessi Sposi sono la miglior guida di Milano è un romanzo che coincide con una città e se si vuole capire Milano che è una città difficile bisogna leggere i Promessi Sposi i Promessi Sposi sono un libro sperimentale assolutamente incompreso chi legge le gride dice ah che noia le gride io vi assicuro che si muore da ridere quando si leggono le gride e ci vorrebbe un attore bravo io lo conosco uno che legge bene le gride è difficile restare seduti sulla sedia no? quindi innanzitutto Manzoni è un enorme autore comico d'altronde cosa sceglie lui come plot sceglie una storia comica quelle che usava Goldoni no? cioè lui e lei si vogliono sposare qualcuno glielo vuole impedire no? ecco da qui tutta una serie di miracoli per cui noi non so vuol dire Manzoni una una delle questioni in 700 pagine di romanzo c'è un solo padre che è il padre della monaca di Monza no? quindi già questo già questo dice ma allora qual è il monaca di Monza che ricordiamo ha una colpa fondamentale da cui discendono tutte quella di essere nata no? e da lì possiamo cominciare a capire alcune cose per esempio come entra in scena Lucia che è una partenogenesi sembra Atena che esce dalla testa di Zeus no? e capire a quale angosciosa domanda a quale tragica domanda risponde cosa ci salva dalla colpa di essere venuti al mondo questa è un po' la domanda la domanda che 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 alleggia in questo impressionante romanzo questo romanzo in cui Manzoni impara a scrivere e e e attraversa e fa passi avanti di di secoli anche solo nell'andare avanti per esempio quando nei capitoli sulla peste che sono dei capitoli incredibili pazzeschi quando lui introduce la scena di Don Rodrigo che si ammala che è una scena che appartiene alla scrittura del Manzoni dei primi capitoli quasi no e noi ci accorgiamo che c'è un abbassamento di tono il sogno lui che è in questo posto quello che lo indicano rispetto a quello che sta facendo in quelle pagine lì non solo con la madre di Cecilia ma tante altre cose ci si accorge che è quasi tornato indietro no cioè sembra un abbassamento dici sì ma abbiamo già visto quel modo di narrare lì un po' cupo un po' gotico no e e e invece se noi leggiamo il perdono di Renzi quando vediamo Don Rodrigo buttato lì eccetera siamo veramente su un altro pianeta narrativo io tutte le volte che leggo i promessi sposi cosa che faccio spesso continuo a dirmi ma cosa ha fatto James Joyce di nuovo cioè noi dovremmo leggere i promessi sposi come uno dei libri sperimentali eh pionieristici della letteratura cioè Manzoni se eh faccio mia la definizione che fu data di Victor Hugo anche su Manzoni Manzoni era un pazzo che credeva di essere Manzoni cioè eh eh e lo si dice di Victor Hugo questo no però è verissimo eh di lui quindi Manzoni come fa a non fare i conti con Manzoni eh eh cioè lo scrittore più famoso della letteratura italiana eh è ancora uno sconosciuto basta dire questo la colonna infame cioè è qualcosa di impressionante no per cui questo è su Manzoni sulla necessità sulla necessità è molto semplice io mi ricordo che quando ero vivevo tra contadinelli e avevo cinque anni avevo la perfetta consapevolezza di essere un buono nulla e siccome avevo avuto uno zio che ero stato un grande pittore del ventesimo secolo Tonero Zai un prozio non era proprio mio zio non so perché io ancora da bambino pensavo che se non fossi riuscito nell'arte in qualche modo nel mondo dell'arte in qualche arte non certo un disegno perché facevo schifo a disegnare non sarei stato in grado di far niente e quindi è il come dire per me la letteratura è sempre stata una questione di vita di morte e e anche adesso anche adesso è un po' così continuo penso di essere abbastanza bravo a fare queste cose per continuo in fondo a sentirmi un po' un buono nulla ecco e in questo senso la necessità della letteratura è grande perché non so sinceramente cosa potrei dare ai miei simili se non dessi questa questa cosa qui poi viene tutto il resto mi occupo di teatro insegno all'università e faccio queste cose qui ma tutto tutto nasce da lì se no non saprei cosa fare i giovani testori se ne accorse subito quando non me ne ero accorto nemmeno io a a vent'anni mi rendo conto anche che tu mi hai fatto una domanda sul tempo e più che dirti che è verissimo che c'è che questo lavoro sul sì beh ho citato ho citato Bergson e Sant'Agostino ecco preferisco rimandare a loro soprattutto a Sant'Agostino ti ringrazio molto per questa conversazione volevo dire ancora questo aggiungo alla tua biografia letteraria la traduzione e la diciamo riduzione che hai fatto dei miserabili per il teatro io ho avuto l'opportunità e l'ultima volta che sono andato al teatro in vita mia poi c'è stato Covid una cosa l'altra quella riduzione e traduzione che hai fatto dei miserabili che io ho trovato molto bella e adesso oltre per le cose che hai detto tu mi viene in mente di dire che tu sei uno scrittore naturalmente e diciamo rivendichi la centralità di questa attività nella tua vita ma sulla base dei cose che hai detto su Manzoni dico sareste stato anche sicuramente un ottimo critico letterario ecco detto questo concludo con un invito a leggere questo bel romanzo di Doninelli forse molto più breve da leggere che da raccontare però che va letto con attenzione alla prima lettura uno può dire non ci capisco niente e quindi forse occorre leggerlo forse perché ha troppa voglia di capire se invece parte con l'idea di non capire niente è più facile però se parte con l'idea che non deve necessariamente spingersi a capire se lo gode di più e quindi magari lo può leggere anche soltanto una volta io l'ho letto due volte ti ringrazio molto Luca grazie a te devo dire che scusate l'ultima cosa penso sempre con grande senso di colpa al sacrilegio che ho compiuto riducendo 1900 pagine dei miserabili in 70 misere pagine di un copione teatrale però l'hai fatto bene devo dire che l'hai fatto bene quindi io ti saluto saluto gli ascoltatori che spero siano tanti della Newman e direi che potremmo chiudere grazie di cuore Mario grazie a tutti grazie a te Luca grazie ciao arrivederci ciao